ci troviamo in diretta con ivano donato medico anestesista e rianimatore ospedaliero buongiorno dottore noi volevamo volevamo chiedere la sua opinione volevamo sapere che cosa ne pensa riguardo a quello che è appena successo a quello che comunque abbastanza si parla abbastanza di questo ora allora figliuolo ha fatto una richiesta abbastanza esplicita abbastanza importante ha chiesto infatti di dilazionare le dosi le seconde dosi e quindi di spostare i tempi delle seconde dosi sia di pfizer sia di moderna e astrazeneca addirittura di di allontanare di quindi ritardare le seconde dosi di qualche settimana che cosa che cosa ne pensa riguardo è d'accordo si trova comunque d'accordo sì buongiorno io penso che arrivare ad una affermazione di questo tipo comporta anche un'evidenza scientifica quindi immagino che il referente del del ministero per quanto riguarda la campagna vaccinale sia arrivato a queste considerazioni in relazione a una valutazione scientifica di studi che evidenziano la possibilità di dilazionare su quella che è l'esperienza sebbene limitata perché alla fine è un anno che stiamo lavorando su questo problema del coronavirus e con l'approccio vaccinale ancor meno è chiaro che forse siamo in una fase ancora di sperimentazione una sperimentazione dovuta e è sicuramente un momento molto complesso e molto difficile gestire una pandemia di questo tipo a livello globale non è una cosa semplice tutt'altro anzi e anche dal punto di vista di risultati scientifici stiamo navigando forse un po' a vista da questo punto di vista sono incoraggiato dal fatto che evidentemente autorevoli esponenti scientifici colleghi che si occupano della ricerca e della sperimentazione della statistica e dell'epidemiologia hanno supportato questo tipo di ragionamento e quindi questo è sicuramente in un'ottica di sicurezza e incoraggio i cittadini ad avere fiducia in tutto quello che sta succedendo personalmente penso che la vaccinazione debba seguire dei canoni ben precisi e quindi mi limito a sottolineare ancora una volta questo aspetto io sono stato vaccinato sono stato vaccinato con Pfizer da sanitario dopo 20 giorni gli inglesi proponevano una vaccinazione prolungata nella popolazione a tre mesi se oggi arriviamo a questo evidentemente c'è un substrato scientifico ripeto perché ricordiamo infatti che in alcune circostanze addirittura si è pensato di quasi eliminare le seconde dosi nel senso che bastasse quasi anche una prima dose allora il problema grosso di questa situazione e anche della grossa diatriba tra l'utilizzo di AstraZeneca di Pfizer piuttosto che Moderna è sostanzialmente la necessità di fare una vaccinazione di massa AstraZeneca sicuramente si predispone come prodotto come vaccino che per le sue caratteristiche di stoccaggio di manutenzione di facilità di gestione e quant'altro è un prodotto assolutamente che può essere utilizzato su ampia scala e per una vaccinazione di massa Pfizer e Moderna è un vaccino che deve essere conservato con determinate caratteristiche preparato con determinate metodologie che richiedono una professionalità richiedono un impegno anche superiore per cui è un sicuramente un po' meno predisposto ad una vaccinazione di massa così come noi in realtà a livello mondiale abbiamo bisogno dobbiamo partire dal presupposto che questa pandemia la si risolve nel momento in cui tutto il pianeta viene vaccinato sostanzialmente altrimenti andremo incontro comunque a delle varianti e lo sappiamo perché già la variante sudafricana è stato evidenziato da recenti articoli che non sembra essere così responsiva anche sul vaccino Pfizer e quindi anche da questo punto di vista è chiaro che qualsiasi tipo di variante può essere pericolosa teniamo conto che un virus di questo tipo ha la possibilità di variare ad una velocità veramente elevata e quindi non sono le piccole varianti che possono determinare una complicanza ma sicuramente se ci sono molte replicazioni quindi duplicazioni virali questo rischio aumenta. Quindi abbiamo parlato di Pfizer abbiamo parlato di Moderna AstraZeneca ma non abbiamo parlato di ovviamente Johnson & Johnson in quanto risulta essere stato sospeso? Ma la caratteristica del vaccino Johnson & Johnson è praticamente dello stesso modello di AstraZeneca dello stesso modello del vaccino russo sostanzialmente si basa su un vettore che è un adenovirus che viene utilizzato per portare all'interno della struttura umana quella che è la componente genica necessaria a fine di produrre anticorpi e numerosi studi ne è uscito uno proprio qualche settimana fa su New England che evidenziava che una delle possibili effetti collaterali è proprio là il fatto dell'utilizzo dell'adenovirus come agente che trasporta all'interno del nostro corpo il pezzettino di struttura del coronavirus necessaria a noi umani per produrre i nostri anticorpi. Anche qui c'è una esperienza ridotta sicuramente rispetto ad AstraZeneca che ormai è veramente notevole l'Inghilterra ha fatto una vaccinazione di massa quasi tutto il paese ormai o buona parte del paese sicuramente questo è partito un po dalla fed americana dove non c'è una così elevata casistica. Ripeto i numero di casi di effetti collaterali sono molto molto bassi va considerato nella complessità noi stiamo facendo veramente una grossa campagna anche mediatica da questo punto di vista perché il rischio di trombosi e di effetti collaterali probabilmente è più alto anzi senza probabilmente sicuramente più alto con un viaggio aereo con l'assunzione della pillola anticoncezionale quindi questo voglio dire non esiste nessun farmaco che non abbia effetti collaterali questo dovrebbe mettere al sicuro tutte le persone altrimenti non si dovrebbero più né fare viaggi aerei né prendere la pillola anticoncezionale e né prendere antibiotici quindi vorrego dire sarebbe un ritorno veramente a mille pass anni fa. Perfetto il concetto è chiaro ringraziamo Ivano Donato e ovviamente tutto il lavoro dei medici che stanno agendo in questo in questo periodo. Buona giornata.